Benvenuta a questa nuova puntata di Impact Girl dedicata ai miei amici numeri. Si fa per dire perché io e i numeri non abbiamo un bellissimo rapporto, solo che sfortunatamente se non misuri qualcosa per misurare due numeri servono, non puoi nemmeno migliorarlo. Dico appunto sfortunatamente perché personalmente amo creare, creare testi, creare contenuti, dedicarmi ad aspetti appunto più, chiamiamoli artistici, molto meno analizzare tabelle e monitorare i numeri e per tanto tempo devo dire che ho delegato in modo abbastanza stupido questa parte del mio lavoro. Stupido in che senso? Nel senso che ho nascosto la testa sotto la sabbia, tanto se ne occupava qualcun altro, chi se ne frega. Poi però ad un certo punto il destino ha deciso di togliermi questa stampella su cui io praticamente mi appoggiavo per andare avanti così da sotto il naso e io mi sono ritrovata a dovermi rialzare da sola in totale autonomia ed è stato davvero difficile proprio perché non avevo guardato e osservato e imparato da chi sapeva fare meglio di me quello che effettivamente doveva essere fatto ma l'avevo delegato a occhi chiusi. Ecco perché all'interno della Beats Family, il gruppo segreto di Beats Academy, martello sempre continuamente su questo aspetto del delegare con testa, ossia è ovvio che noi dobbiamo in qualità di imprenditrici delegare alcune cose, ci sta che deleghiamo le cose che ci riescono diciamo così meno, che ci richiedono più tempo, più fatica, allo stesso tempo sono cose che un pochino dobbiamo conoscere. Quindi quando mi sono ritrovata praticamente in mare aperto ho dovuto imparare a almeno a stare a galla, non direi insomma a fare chissà che nuotatrice però almeno a stare a galla e così oggi ci sono quattro dati principali che guardo sempre nel mio business nonostante la fatica ma poi alla fine di questa puntata ti condivido anche un piccolo trucchetto per rendere tutta questa parte analitica meno faticosa se non ti piace naturalmente e ti sarà utile anche se ti piace. Allora il primo dato che guardo sempre è il tasso di conversione delle nostre landing page, alcune sono naturalmente pagine di freebie quindi pagine dove l'utente arriva per iscriversi e ricevere qualcosa di gratuito entrando poi nel funnel successivo. In altri casi sono invece pagine di vendita, è sempre una landing page ossia una letteralmente una pagina di atterraggio, una pagina dove l'utente atterra dopo aver cliccato su un annuncio, sulla SERP di Google eccetera eccetera su un'email e questo valore puoi calcolarlo dividendo il traffico che arriva alla pagina in questione per il numero di persone che ha effettuato una azione, l'azione desiderata che appunto in alcuni casi può essere un'iscrizione a qualcosa di gratuito in altri può essere un acquisto. Perché è importantissimo conoscere questo dato? Le ragioni sono tante ma cerchiamo di rendere tutto molto molto semplice e immediato e comprensibile. Nel momento in cui io mi accorgo che il mio tasso di conversione è particolarmente basso e questo è qualcosa che naturalmente qui non abbiamo spazio per approfondire, dipende naturalmente dalla landing page in questione, dipende se l'invito è quello di iscriversi a qualcosa di gratuito oppure è quello di acquistare, dipende anche dal tipo di pubblico che è arrivato, se è un pubblico caldo o se è un pubblico che già ci conosce, un pubblico freddo che non ci ha mai sentito nominare, in quel caso i range ottimali di conversione, di tasso di conversione variano, ma senza diventare, senza entrare nel merito di cose troppo complicate, nel momento in cui io miglioro il tasso di conversione di una pagina, che sia una landing page per qualcosa di gratuito o una pagina di vendita, aumenterò per forza di cose il numero di persone che compie l'azione desiderata e questo inevitabilmente nel lungo termine ha un beneficio enorme per la mia attività, anche perché significherà che ho bisogno di meno persone complessivamente se riesco ad aumentare la proporzione di persone che in quel gruppo che già raggiungo effettivamente decide di iscriversi o di acquistare e quindi mi costerà meno la pubblicità e tutta una serie di altri aspetti a cascata che aiuteranno notevolmente l'attività. Un altro dato importante, il secondo da guardare con attenzione è il cosiddetto tasso di rimbalzo. Anche qui si potrebbe entrare in una conversazione di ore, ma non è quello il mio scopo, anche perché non ci interessano i massimi sistemi, ci interessa l'essenziale per far crescere la nostra attività e quello che vuoi tenere a mente è che il tuo tasso di rimbalzo deve essere il più basso possibile. Secondo quelli che sono diciamo così le stime di settore, anche se naturalmente poi dipende da quello che proponi, dalla natura del tuo sito web, dal fatto che tu abbia o meno un blog e da tutta una serie di altri fattori, però indicativamente per darti un dato perlomeno a cui fare riferimento, l'ideale sarebbe avere un tasso di rimbalzo inferiore del 65%. Ovvio che ci sono alcune pagine del tuo sito che è giusto vengano rimbalzate, tra l'altro non l'abbiamo detto, che cosa vuol dire rimbalzo? Vuol dire che un utente arriva sulla pagina e letteralmente rimbalza, quindi non resta sulla pagina ma esce immediatamente, quindi non compie nessuna azione, ma non sta neanche nemmeno lì a capire che cosa effettivamente quella pagina può offrirgli. Ci sono delle pagine che per forza di cose nel nostro sito web hanno questa natura, ci sta. Quindi è ovvio che questo dato andrà ad essere, il tasso di rimbalzo andrà in qualche modo ad essere influenzato da queste pagine, però la media a cui tu vuoi puntare complessiva è quella di avere un tasso di rimbalzo inferiore al 65%. Chiaramente è più facile abbassare il tasso di rimbalzo quando il contenuto che hai nel sito è maggiore, per forza di cose, perché se tu hai del contenuto che richiede diversi minuti per essere consumato e effettivamente viene consumato perché è contenuto di valore, è chiaro che il tasso di rimbalzo si riduce notevolmente. Questo però significa anche che sarebbe ottimale non avere dei banner magari pubblicitari che rimandano ad altri siti, per quanto anche questo sia un modello di monetizzazione online. Questo perché? Perché per forza di cose quello è traffico che tu vai a perdere invitandolo esplicitamente ad andarsene da qualche altra parte. Quindi meno inviti di questo tipo hai, se non proprio quelli essenziali perché è giusto che alcuni ci siano, meglio è. Il terzo numeretto da tenere sott'occhio prende il nome di value per lead, ossia valore per iscritto. Per determinare il valore del tuo iscritto puoi dividere il totale delle tue entrate che rientrano in un dato arco di tempo per il numero di iscritti unici che hai raggiunto entro lo stesso arco di tempo. Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che oggi tu abbia 500 iscritti unici al tuo freebie, ad esempio, e successivamente tu abbia fatto poi 10 vendita attraverso il funnel, ciascuna del valore di 97 euro. Questo ha reso le tue entrate un totale di 970 euro. Per calcolare il valore del tuo iscritto medio dividerai il valore totale, quindi 970, per il numero di iscritti che arrivano al tuo sito. Quindi 970 euro diviso 500, che ti darà, e questo non l'ho calcolato a mente seduta stante, ovviamente, ma l'ho calcolato prima, 1.94 euro. Questo è il valore del tuo iscritto medio, o in altre parole, quanto un iscritto vale per le tue campagne ad esempio di pubblicità sponsorizzate. Infatti rappresenta il valore massimo che puoi permetterti di pagare per un iscritto alla tua landing page senza perdere quello che stai investendo. Quindi non sottovalutare l'importanza di questo numero per il successo del tuo progetto. So che all'inizio può sembrare un pochino confuso, ma riascoltati questa puntata, segnati a penna su un foglio di carta questo esempio e vedrai che sarà tutto molto più chiaro, molto più rapidamente. Il quarto e ultimo numero da tenere sott'occhio è il tasso di cancellazione alla tua lista di iscritti via email. Questo è un dato importante che tra l'altro presuppone, ma so che se segui Impact Girl Podcast già da un po' lo sai, la consapevolezza che una lista di iscritti ha un valore enorme per il tuo progetto digitale. Ok? E capire effettivamente, o meglio, tenere sott'occhio, capire qual è il tuo tasso di disiscrizioni è molto utile. Però non ti, come dire, far prendere dall'ansia se vedi che quotidianamente tu hai un certo numero di iscritti che se ne vanno, perché è assolutamente normale. Ad esempio, se hai venti persone che si cancellano al giorno, però ne ricevi attraverso i social, attraverso la SEO, attraverso le sponsorizzate 80 al giorno, puoi tranquillamente stare, puoi stare tranquilla. Ok? È ovvio che qualcuno se ne andrà per i più disparati motivi. Ovvio che quando però il numero di persone che arrivano alla tua lista è inferiore, il numero di nuove persone che arrivano alla tua lista è inferiore rispetto al numero di cancellazioni che hai quotidianamente nell'insieme, perché poi è un dato che guardi a livello mensile, è ovvio che questo è un campanello d'allarme e potrebbe essere interessante dare un'occhiata a quello che sta accadendo. Potrebbe essere interessante capire se effettivamente le persone che si cancellano lo fanno per motivazioni che sono fuori dal nostro controllo, ad esempio non hanno tempo di seguirci, oppure se lo fanno perché sono le persone sbagliate che abbiamo raggiunto, il che può assolutamente succedere. L'importante non farsi prendere dall'ansia e utilizzare questi numeri come un riferimento per un progressivo miglioramento. Ora la parte più bella, quella a cui non vedevo l'ora di arrivare. Per costringermi a guardare questi dati ho impostato in agenda un PPP settimanale. PPP sta per, non te lo dico qui perché c'è una puntata dedicata solo a questo ed è la numero 58, quindi vai a vederla seduta stante e inseriscilo in agenda. Per quanto mi riguarda il PPP è fastidioso come un appuntamento dal dentista, però dà una soddisfazione decisamente maggiore perché naturalmente essere consapevoli di quelli che sono i numeri del tuo business e soprattutto l'andamento di questi numeri ti aiuta a prendere delle decisioni molto più accorte, molto più ponderate, che non si basano sul secondo me potrei fare così o colì, ma si basano sul farò così perché questo dato dice così. Questo è tutto per questa puntata di Impact Girl Podcast, noi ci vediamo come sempre al nostro prossimo appuntamento. Questo è tutto per la puntata di oggi, se ti è stata utile condividila con altre imprenditrici e se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività vola al sito beats-academy.it slash podcast e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tipo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl.